New Martina ha fallito miseramente Esattamente un mese fa New Martina e Patrizio hanno annunciato la loro collaborazione Ma le cose stanno andando già a scatafascia Del locale non si vede neanche l'ombra Ma perché? Cos'è successo? Beh, semplicemente i commenti sotto quel video non si sbagliavano Tra i due è nata una relazione amorosa molto intensa Che però è stata tenuta segreta Avrebbero annunciato il tutto il giorno dell'apertura del locale In modo da attirare doppiamente l'attenzione su di loro Peccato però che un forte litigio ha rimesso tutto in baldo Martina si era insospettita del fatto che Patrizio nell'ultimo periodo Fosse sempre in giro a fare calcetti E sapete la storia di Jessica Calcetto, no? Patrizio ha provato a spiegare che lo faceva per i video sui social Ma Martina non ne voleva sapere nulla E ha smesso di parlargli Anzi, ha smesso di parlare a chiunque Come avrete potuto notare negli ultimi video Taggate New Martina tranquillizzandola perché Patrizio è un bravo ragazzo Non la tradirebbe mai Io sono Matteo Barresi, seguimi per altri scandali